Oggi ad Alza il volume è un giorno speciale perché presentiamo un libro davvero speciale eccolo qui ebbene sì è il mio ultimo romanzo ancora una volta un thriller storico si intitola il resuscitatore il romanzo del dottor frankenstein italiano e pare proprio che Mellie Shelley abbia tratto spunto da un personaggio italiano il cui nome era Giovanni Aldini proprio per creare questo grande personaggio di frankenstein all'interno di queste pagine troverete una trama gialla piuttosto potente ma anche notizie storiche perché andremo a svelare e a ripercorrere proprio la strada di questo Giovanni Aldini che da Bologna lo portò pensate bene a Londra laddove i condannati a morte non venivano ghigliottinati ma venivano impiccati questo perché perché gli serviva un corpo integro su cui operare ebbene questo è Giovanni Aldini e questo è il mio libro alla prossima quale legge può permettere a un uomo di sostituirsi a dio il resuscitatore il nuovo romanzo di lorenzo beccati la storia dello scienziato italiano che ha ispirato frankenstein che ha fatto